segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ora sentirò se anche mario monti è d'accordo con la parlamentarizzazione della protesta più dura perché vedo che è già arrivato però vado in pubblicità saluto è già luigi paragoni faccio in bocca al lupo ovviamente saluto il diritto di il diritto di tribuna è già finito grazie vuoi tornare io ti riprendo se tu vuoi tornare tranquillo solo che oggi ha avuto il duello spumeggiante lo so lo so ma infatti pensavo che ci potesse essere un po più di interlocuzione a piccole dosi ti prendo un po meopatico paragone ti prendo meopatico sia assolutamente muria muria mai che la democrazia ne uscisse ferita e da questo spazio eccessivo ma figuriamo che si concedono alle voci del discorso credimi è un problema di tempo nessuna paura che tu possa fare la democrazia stai tranquillo già luigi pubblicità torno subito da mario monti un pochino un pochino sì un pochino alla vetta mi raccomando è dio la bian gloria mario monti sì